Ci troviamo a Taranto, via Messapia, angolo via Nettuno, una zona altamente trafficata e fonte di parecchi pericoli nel momento in cui avvengono le svolte, nel momento in cui una macchina gira. Ecco, guardate qui, questa dicevamo è via Messapia e nel momento in cui una macchina sta attraversando, sta passando da via Messapia e sta ovviamente per girare, per 30 e 31 è capitato parecchie volte che qualcuno sia stato travolto. Guardate un po' qui, c'è una macchina svolta, il pedone sta camminando sul marciapiede e non ci vuole davvero nulla, dicevo per 30 e 31 qualcuno si salva e qualche altro invece purtroppo viene tristemente travolto. D'altronde è un marciapiede così stretto, così risicato, passatemi l'espressione, che neanche un carrozzino o una carrozzella per disabili può appunto transitare e il cittadino si vede costretto a passare, appunto a camminare sul manto stradale. Qual è la soluzione? Beh, cambiare il senso di marcia, invertire il senso di marcia di modo che passando, camminando in questa direzione, chiaramente la macchina ha il controllo del pedone, lo controlla meglio e il pedone non rischia di essere travolto.